Vi aspetto il 28 gennaio presso la sala dell'ARPA di Terni al convegno ECM sulla gestione multidisciplinare del paziente trachetomizzato, tema estremamente dibattuto per la delicatezza della gestione e la grande manualità necessaria. Il convegno è indirizzato a tutte le professioni sanitarie che ruotano intorno al paziente per garantire una corretta gestione della cannula tracheale. L'iscrizione al convegno è gratuita, vengono rilasciati 6 ECM, il convegno inizia dalle ore 8 e termina alle ore 14. Vi aspetto numerosi e arrivederci al 28.